I funzionari delle dogane hanno combinato oltre un milione di sanzioni per le scommesse sportive illegali in Sicilia. Sono stati intensificati i controlli nelle maggiori città dell'isola, nel Mirino, sono finiti 45 esercizi commerciali tra bar, rivendite, tabacchi, internet point e sale scommesse. Scoperti 9 punti clandestini di scommesse privi della licenza e delle concessioni dell'Agenzia. 15 persone sono state deferite alla Procura della Repubblica competente per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e sequestrate 20 apparecchiature informatiche con le quali veniva consentito un utilizzo illegale nei settori dei giochi e delle scommesse. Le sanzioni ammontano precisamente ad 1 milione e 100 mila euro. I controlli delle autorità proseguiranno a tappeto anche nelle prossime settimane per prevenire il gioco illegale e le scommesse online clandestine.